Dunque oggi parliamo delle soluzioni ipotoniche, isotoniche e ipertoniche. Cerchiamo di trovare un modo per evitare di fare confusione. Allora aiutiamoci con la figura, aiutiamoci con le frecce, aiutiamoci con le palline rosse. Allora le soluzioni ipotoniche sono quelle a minore concentrazione di soluto. Allora se il soluto sono le palline rosse, allora come potete vedere qui ci sono poche palline rosse sulla soluzione ipotonica. La soluzione ipertonica sono quelle a maggior concentrazione di soluto. Allora andiamo a vedere qui soluzione ipertonica, vedete che ci sono tante palline rosse. Quindi una soluzione è ipotonica quando c'è poca roba sciolta dentro e ipertonica quando c'è tanta roba sciolta dentro. Domanda è quando è isotonica? È quando praticamente abbiamo a destra e a sinistra di una membrana semipermeabile la stessa concentrazione di soluto. Infatti andiamo a vedere in una soluzione isotonica, vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palline rosse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palline rosse. Quindi abbiamo la stessa concentrazione di roba che c'è dentro. Perché roba? Perché non ha importanza quello che c'è disciolto, è importante quanto è disciolto. Guardiamo un attimo le frecce. Vedete che nella soluzione ipotonica tanta acqua se ne va da sinistra, verso, destra perché ce n'è tanta a disposizione. Poca acqua va al contrario perché ce n'è poca a disposizione. Nella soluzione ipertonica è praticamente poca acqua va da sinistra, verso, destra perché praticamente la maggior parte è concentrata vicino alla soluzione. Mentre tanta acqua invece va da destra verso sinistra perché ce n'è tanta di acqua e poca soluzione. Quindi, alla fin fine, noi dobbiamo tenere presente, perché certe volte ci si confonde ipotoniche, ipertoniche. L'acqua va da una zona a maggiore quantitativo d'acqua a una zona a minore quantitativo d'acqua e così via. Nelle soluzioni isotoniche praticamente siamo in pareggie 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, se vogliamo parlare, di calcio. Comunque, vedete, qui c'è la membrana semipermeabile e qui proprio guardate le dimensioni delle frecce per farvi capire quanta acqua passa attraverso questa soluzione. Allora, nell'osmosi abbiamo detto che le molecole passano attraverso una membrana selettivamente permeabile, quindi che consente il passaggio delle molecole di acqua ma non di quelle di soluto, da una soluzione ipotonica, quindi da acqua pura, acqua distillata, ad una ipertonica, quindi dove c'è molto soluto, nell'organismo umano le cellule sono tutte immerse in soluzioni isotoniche, quindi c'è tanto soluto dentro, tanto soluto fuori dalla cellula. Se una cellula è inserita in una soluzione, quindi prendiamo una cellula e la inseriamo in una soluzione avendo una concentrazione bassa di soluti, cioè con tanta acqua, io prendo una cellula e la metto in mezzo all'acqua, quell'acqua tende ad entrare nella cellula e a rigonfiarla. Viceversa, succede il contrario. Se la soluzione ha un'elevata concentrazione di soluti, quindi ipertonica, la cellula perde acqua, perché se c'è poca acqua all'esterno, quella che c'è all'interno se ne va verso l'esterno. Perché tutto questo? Allora, lo vedremo quando vedremo le cellule vegetali. Per il momento teniamo un attimo un riassunto. Allora, l'acqua si muove attraverso una membrana selettivamente permeata e si muove da una regione a potenziale idrico più alto verso una regione a potenziale idrico più basso, da una zona più bassa concentrazione di soluto ad una zona più alta concentrazione di soluto, da una soluzione ipotonica a una soluzione ipertonica, da un potenziale osmotico più basso ad un potenziale. osmotico più alto, va bene? Questo qua è il riassunto di quello che noi dobbiamo ricordare. Stavamo parlando delle cellule. Allora, nel caso degli organismi unicellulari che vivono in mare, molte volte sono isotonici rispetto all'ambiente. Attenzione, non è che perché il mare è grande e allora le cose cambiano mentre l'organismo è piccolo, no, è una questione di concentrazione. Hanno la stessa concentrazione di soluto. Invece, in altri ambienti, ci sono alcuni organismi che sono ipertonici, cioè hanno un sacco di sale dentro rispetto all'acqua che sta all'esterno. Allora, avendo tanto sale dentro, l'acqua all'esterno tende ad entrare e potrebbe far scoppiare l'organismo se questa cellula non avesse i vacuoli contrattili che raccogliono l'acqua e poi pompano fuori. Andiamo a vedere appunto le cellule vegetali. Le cellule vegetali sono ipertoniche. Vedete quanti pallini rossi ci sono, no, qua dentro? Quindi c'è tanto sale. Per questa ragione l'acqua tende ad entrare, esercitando quindi una pressione contro la parete cellulare, facendola espandere e maturare. Quindi tanto sale fa entrare acqua e quest'acqua spinge la parete. Cosa succede però? Nella cellula matura la cellula non si espande ulteriormente. L'acqua cerca di entrare, ma contemporaneamente cerca anche di uscire. Guardate, vedete, stiamo in una situazione quasi isotonica. Vedete che con le palline rosse abbiamo i soluti, con le frecce abbiamo il movimento d'acqua. Vedete che più o meno tanta acqua entra, tanta acqua esce. In ogni caso c'è una certa pressione. Questa pressione viene chiamata turgore. Cosa succede? Vedete quanti pallini rossi stanno all'esterno e quanti pochi stanno all'interno? Vedete le frecce, quelle nere, sono molto più lunghe ad uscire rispetto a quelle corte che entrano? Perché quando è in una situazione dove c'è molta acqua all'interno e poca acqua all'esterno, quella che c'è all'interno tende ad uscire. Nel momento in cui l'acqua tende ad uscire, la cellula avvizzisce e questa cellula viene chiamata plasmolizzata. Nel prossimo video parleremo poi del ciclo cellulare. Grazie. 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 Grazie.